Questa ripresa è per me. Ripeto, sto viaggiando ai 10-12 km all'ora. Talmente tanto piano che diciamoci la verità, il tachimetro neanche funziona. Sto andando a Zocca, al paesello. Spero che la luce del sole bassa sulla mia fronte e la halla. E che questa bellissima giornata sia per tutti un augurio. Allibito da con tanta bellezza. Eeeh, quando c'è la neve... C'è la neve! Vi direte, se non hai mai visto la neve? Io l'ho vista e da un po' che non venivano nevecate così. Fammi pure tu la ripresa. Se riesci a riprendere questa meraviglia, noi come mettiamole sempre tutto? E cambierai anche la canzone, il musicale. Quella nevecate. C'è qui. Supertrend. 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 Supertrend.